Ora leggeremo insieme e commenteremo un estratto di buddismo e società riferito allo studio di questo mese. Ovviamente la parte estesa dei commenti verrà pubblicata a parte successivamente, come sempre facciamo in questo canale. Ti invito all'acquisto della rivista buddismo e società che contiene, oltre allo studio per intero, molto altro. Grazie e buon ascolto. Lo studio mensile per crescere insieme nella fede. Lezioni di Daisaku Ikeda sugli iscritti di Nichiren Daishonin Passi chiave dalla raccolta degli insegnamenti orali Studio di marzo 2024 Capitolo La parabola della città fantasma Primo brano Pagina 32 Capitolo settimo La parabola della città fantasma Sette punti importanti Punto primo sulla città fantasma Keijo In realtà, quando Nichiren e i suoi seguaci recitano Nammyo-renge-kyo, si stanno illuminando al fatto che il nostro corpo e la nostra mente sono la legge meravigliosa stessa. Vale a dire che la città fantasma è identica alla terra dei tesori I dieci mondi sono tutte città fantasma e ognuno di questi dieci mondi è una terra dei tesori. In questa affermazione, che la città fantasma è identica alla terra dei tesori, la singola parola, identica, simbolizza Nammyo-renge-kyo. Ogni istante di vita nella città fantasma è un istante di vita nella terra dei tesori. Cosa è Rufu è il flusso stesso In sintesi, la lotta condivisa di maestro e discepolo corrisponde a un progresso instancabile e incessante, in accordo con il monito dei Dashonin. Rafforzate la vostra fede giorno dopo giorno e mese dopo mese. Se la vostra determinazione cala anche solo un po', i demoni prenderanno sopravvento e la realizzazione di uno scopo segna l'inizio di una nuova sfida. Cosa è Rufu non è un punto di arrivo, una destinazione da raggiungere dopo la diffusione della legge mistica. È il flusso stesso, un movimento infinito di propagazione condiviso da un numero sempre crescente di persone. È lo scorrere vibrante di un buddismo vivo nella società e nel mondo. Il grande fiume di Cosa e Rufu, generato dalla lotta condivisa di maestro e discepolo, fa inoltre emergere individui capaci di costruire una società migliore. È una forza potente per la realizzazione della pace mondiale, che mette a primo posto il rispetto della dignità della vita. Il Sutra del Loto descrive la grande impresa del maestro e dei discepoli che si impegnano incessantemente nell'ampliare ed estendere il magnifico fiume di Cosa e Rufu. In questa lezione ci concentreremo sulla parte della raccolta degli insegnamenti orali relativa al capitolo del Sutra del Loto, La parabola della città fantasma, dove viene evidenziato come la relazione maestro e discepolo rappresenta un profondo legame karmico, costruito nel corso di un cammino ininterrotto di lotta condivisa, sin dall'infinito passato. Allora, come l'altra volta, proviamo un breve riassunto dei punti che abbiamo letto. Quindi Cosa e Rufu non è un punto d'arrivo, ma un viaggio infinito. La lotta condivisa di maestro e discepolo alimenta un movimento inarrestabile di propaganda della legge mistica. Più persone si uniscono, più il fiume di Cosa e Rufu si ingrossa. Questo crea quella forza per la pace, il rispetto della vita e felicità altrui. Poi, la relazione maestro-discepolo è un legame karmico. Questo praticamente si va formando in un cammino ininterrotto di lotta condivisa. È insieme che si rafforza la fede e si superano le sfide per realizzare una società migliore. E poi, importante, Cosa e Rufu non è solo diffondere la legge mistica, ma viverla nella società. Cioè far vedere il buddismo agli altri. Cosa vuol dire essere buddhisti? Perché il buddismo è vibrante, trasforma la vita quotidiana e genera individui capaci di costruire un futuro migliore. E poi teniamo sempre a mente che il raggiungimento di un obiettivo deve essere preso come l'inizio di una nuova sfida. Non di un traguardo raggiunto e lì ci fermiamo. La parabola della città fantasma spiega l'unico veicolo del Buddha. Pagina 32 Nella lezione precedente abbiamo parlato dei tre cicli di predicazione che appaiono nel Sutra del Loto. Il secondo ciclo, la predicazione basata sulle parabole, termina nel sesto capitolo, Predizioni. E il terzo ciclo, la predicazione basata sulle relazioni, che spiega le relazioni del Buddha con i discepoli sin dall'esistenza passate, inizia nel settimo capitolo. La parabola della città fantasma. Qui Shakyamuni rivela che Purna e altri discepoli ascoltatori della voce condividevano con lui una relazione dal remoto passato. Racconta che in un passato inconcepibilmente lontano, pari a tanti kalpa quanti granelli di polvere di un sistema maggiore di mondi, viveva un Buddha chiamato Grande Saggezza Universale. Un re che, dopo il conseguimento della buddhità, predicò ai suoi sedici figli numerosi insegnamenti culminati nel Sutra del Loto. Dopo che il re si ritirò in meditazione, i sedici figli predicarono sul posto il Sutra del Loto e molti esseri differenti. Tale processo è chiamato la riaffermazione dell'insegnamento del Buddha Grande Saggezza Universale. Shakyamuni spiega che in una vita precedente, egli era stato il sedicesimo principe e che gli ascoltatori della voce, ora radunati sul picco dell'Aquila, si erano riuniti a lui, il loro maestro, per effetto della causa di averlo dito predicare il Sutra del Loto, in quel passato lontano innumerevoli eoni, evidenziando così come la relazione fra lui e i discepoli non fosse circoscritta all'esistenza presente. Prosegue spiegando che gli stati vitali dei tre veicoli, ascoltatori della voce, risvegliati all'origine dipendente e bodhisattva, ai quali finora egli aveva insegnato ad aspirare, erano come una città fantasma, mentre la terra dei tesori è il vero nirvana, illuminazione, insegnato dall'unico veicolo del Sutra del Loto. In tal modo illustra l'importantissimo principio della sostituzione dei tre veicoli con l'unico veicolo. La parabola della città fantasma racconta di alcuni mercanti che intraprendono un pericoloso viaggio di 500 iogiana per raggiungere la meravigliosa terra dei tesori. Lungo la strada si sentono così esausti da voler rinunciare a tornare indietro, ma la loro saggia guida, pensando che sarebbe un peccato se dovessero arrendersi e ritornare senza il tesoro, impiega i suoi poteri sovrannaturali per creare una città fantasma e incoraggia i viaggiatori a riposare e recuperare le forze. I mercanti si rallegrano ed entrano nella città per riposarsi. Quando la guida si rende conto che si sono completamente ripresi, fa svanire la città fantasma e rivela loro la verità. La città era solo un miraggio, afferma, ma la vera terra dei tesori è vicina, esortandoli a proseguire. Quindi, Shakyamuni svela la profondità del suo legame con i discepoli, radicato in innumerevoli esistenze passate. Attraverso la parabola della città fantasma, illustra la natura illusoria dei tre veicoli, ascoltatori della voce, risvegliati all'origine dipendente, e bodhisattva, quindi settimo, ottavo e nono mondo. E li invita a perseverare nel loro viaggio verso l'illuminazione, rappresentata dall'unico veicolo del Sutra del Loto. Quindi, in sostanza, la città fantasma è un'illusione, mentre la vera terra dei tesori è l'illuminazione del Sutra del Loto. La città fantasma è la terra dei tesori. Pagina 33 Nichiren Dei Shonin, nella raccolta degli insegnamenti orali, insegna che la città fantasma e la terra dei tesori non sono due entità distinte. La città fantasma è identica alla terra dei tesori, e illustra la città fantasma attraverso i concetti di impermanenza ed illusioni desideri. Innanzitutto, nel passo immediatamente precedente a quello che stiamo studiando, spiega la città fantasma nella prospettiva di corpo e mente. In un certo senso, i nostri corpi e le nostre menti sono in costante cambiamento e disintegrazione, impermanenti, come la città fantasma. Ma in realtà, questo è un punto di vista che appartiene agli insegnamenti provvisori, perché il messaggio del Sutra del Loto è che questa impermanenza è, in realtà, uno stato di costante permanenza. Cioè, la città fantasma è identica alla terra dei tesori. In Daishonin vuole dirci che recitando Nammyoho Rengekyo, i nostri corpi e le nostre menti, che consideravamo impermanenti, in realtà sono la legge meravigliosa stessa, vale a dire che la città fantasma è identica alla terra dei tesori. Afferma inoltre che l'insidioso sentiero che conduce alla nostra destinazione non rappresenta altro che le illusioni e i desideri, tra cui le tre categorie di illusione. Questa distanza di 500 yogiana, dalla città fantasma alla terra dei tesori, simbolizza l'illusione del pensiero e del desiderio, le illusioni innumerevoli come le particelle di polvere e di sabbia che ostacrono la pratica religiosa e le illusioni dell'oscurità o ignoranza. E prosegue. Comprendere che queste 500 yogiana di illusioni e desideri sono i 5 caratteri della legge meravigliosa, legge mistica, significa comprendere che la città fantasma è identica alla terra dei tesori. Il Daishonin sta descrivendo il cammino verso una grande trasformazione, un processo che non implica la separazione dal nostro io impermanente e nemmeno lo sradicamento di illusioni e desideri. Consiste invece nel comprendere che noi stessi siamo la legge mistica, i 5 caratteri di Nam-myoho-renge-kyo, nel dischiudere e manifestare lo stato vitale di Buddhità che esiste dentro di noi, diventando consapevoli che la strada verso la città fantasma è di per sé la terra dei tesori. Come afferma il Daishonin, i dieci mondi sono tutti città fantasma e ognuno di questi dieci mondi è una terra dei tesori, illuminato dalla legge mistica. Ognuno dei dieci mondi risplende manifestandola. Questo principio della trasformazione della città fantasma nella terra dei tesori si può spiegare anche nei termini della nostra pratica buddista. Attraverso il potere della legge mistica, ogni difficoltà che incontriamo e ogni lotta che intraprendiamo per realizzare i nostri obiettivi per cose rufo e nella vita diventano una brillante espressione di un'infinita e preziosa creazione di valore. Possiamo usare qualsiasi prova come carburante per la nostra evoluzione umana e per il conseguimento della buddhità in questa esistenza, trasformando illusioni e desideri in illuminazione e considerandoli come un tesoro di gioiosi benefici. Nichiren Daishonin nella raccolta degli insegnamenti orali ci offre una visione rivoluzionaria della nostra esistenza. La città fantasma, simbolo di impermanenza e illusioni, non è separata dalla terra dei tesori, che rappresenta la buddhità insita in noi. I nostri corpi e le nostre menti in continuo cambiamento sono come la città fantasma, ma questa impermanenza, secondo il Sutra del Loto, è una permanenza costante. Recitando Nammyoho Renge Kyo, realizziamo che la città fantasma è la terra dei tesori, la nostra natura di buddhità. La trasformazione, quindi, non implica la fuga dalla città fantasma, ma la scoperta del tesoro nascosto in essa. Te immagina un albero che perde le foglie in autunno. In apparenza, l'albero sta morendo, ma in realtà questa morte è solo una fase transitoria, necessaria per la nuova crescita in primavera. La permanenza costante dell'albero è la sua vitalità intrinseca che si manifesta attraverso il ciclo di crescita, morte e rinascita. La parola Soku si riferisce a Nammyoho Renge Kyo, pagina 35. Cos'è che trasforma la città fantasma nella terra dei tesori? Ida Sholin afferma la singola parola identica, giapponese Soku, nell'affermazione che la città fantasma è identica alla terra dei tesori, simbolizza Nammyoho Renge Kyo. La parola Soku esprime la trasformazione che si realizza attraverso la fede nella legge mistica. Il buddismo di Nichiren insegna il principio di conseguire la buddhità nella propria forma presente. Ciò significa che possiamo realizzare uno stato di felicità indistruttibile in questa vita, così come siamo. Ida Sholin prosegue dicendo ogni istante di vita nella città fantasma è un istante di vita nella terra dei tesori. Il potere di trasformare la città fantasma nella terra dei tesori e renderle identiche come si intende con la parola Soku è determinato dalla nostra mente, dalla nostra disposizione interiore in ogni istante della vita. Ogni momento del viaggio di Maestro Discepolo come illustra la parabola è infinitamente profondo. Uniti nel legame di Maestro Discepolo noi recitiamo insieme Nammyoho Renge Kyo e ci impegniamo per realizzare cose a rufo esaurendo in un singolo istante di vita le sofferenze e gli sforzi di milioni di calpa mentre superiamo un ostacolo dopo l'altro. La nostra salda unità e il nostro impegno comune attivano il meraviglioso potere di trasformare la città fantasma nella terra dei tesori e renderle identiche. Come nella parabola della città fantasma e della terra dei tesori Soku rappresenta l'istante in cui la sofferenza si converte in illuminazione e la negatività in gioia. Il Daishonin ci insegna che questa trasformazione è possibile in questa vita realizzando la buddhità nella nostra forma presente. Ogni momento diventa quindi un'opportunità per attivare questo potenziale è illimitato non importano le circostanze esterne. Sono a nostra disposizione la fede incrollabile e l'impegno costante nella pratica. Pagina 36 Secondo brano Punto sesto sulle parole fa svanire la città fantasma Nel brano a quel tempo la guida intuendo che le persone si sono riposate e non sono più stanche e spaventate fa svanire la città fantasma e dice al gruppo Ora dovete ripartire il luogo dei tesori non è lontano Ora quando Nichiren e i suoi seguaci recitano Nammyoho Rengekyo stanno rivelando che la città fantasma non è altro che la terra dei tesori Queste valli montane e queste ampie pianure dove noi viviamo sono tutte senza alcuna eccezione le terre dei tesori della luce eternamente tranquilla Il luogo in cui ci troviamo adesso è il grande palcoscenico per cambiare il nostro karma Nel giugno del 1978 45 anni fa studiai questo passo con i nostri campioni di coserrufo della bassa terra sedentronale dell'Hokkaido Senza farsi sconfiggere dal vento gelido e continuando a recitare per la felicità degli altri percorrevano allegramente lunghe distanze per condividere e diffondere il buddismo impegnandosi nel dialogo e incoraggiando una persona dopo l'altra Ero profondamente commosso dai legami costruiti da quei bodhisattori della terra che erano emersi come veri e propri fari di speranza della legge mistica per illuminare la nostra epoca travagliata ribadì loro che i luoghi dove svolgevano le attività per coserrufo erano terre dei tesori della luce eternamente tranquilla cioè terre del Buddha perché quando comprendiamo che il luogo in cui ci troviamo ovunque esso sia è la terra della nostra vera missione e ci sforziamo proprio lì abbiamo la certezza di conseguire uno stato vitale illimitato traboccante di benefici questa è l'essenza del buddismo il buddismo di Nichiren insegna che possiamo risplendere del radioso stato vitale di buddità qui e ora non in altri luoghi o tempi il Daishonin dice queste valli montane queste ampie pianure dove noi viviamo sono tutte senza alcuna eccezione le terre dei tesori della luce eternamente tranquilla in quanto praticanti della legge mistica ogni luogo in cui ci troviamo è il grande parcoscenico per cambiare il nostro karma è la terra del tesoro dove abbiamo promesso di adempiere la nostra missione di bodisato della terra risvegliarci al voto che custodiamo da sempre in fondo al cuore pagina 36 nel capitolo la parabola della città fantasma Ira e Brahma riuniti in assemblea dichiarano Shakyamuni ci auguriamo che i meriti ottenuti possono estendersi in lungo e in largo a tutti così che noi e gli altri esseri viventi possiamo conseguire tutti insieme la via del Buddha il Daishonin cita questo passo in varie lettere ai discepoli fra cui Nanjo Tokimitsu si tratta di parole che esprimono un voto identico al desiderio del Buddha mettere in grado tutti gli esseri viventi di ottenere l'illuminazione cioè permettere a tutti di diventare felici e per questo suona come un appello ad avanzare tutti insieme verso lo scopo del conseguimento della Buddhità infatti lo scopo del Buddismo non è affermare unicamente la grandezza di Shakyamuni ma levare tutte le persone al suo grandioso stato vitale l'essenza dell'umanismo buddista consiste nel cercare di condividere con tutti l'insegnamento al quale ci si è risvegliati in modo che anche le altre persone possono fare altrettanto il sutra del loto insegna che maestro discepolo si impegnano insieme eternamente per trasmettere questo grande insegnamento a tutte le persone all'inizio dell'ottavo capitolo del sutra del loto predizione dell'illuminazione a 500 discepoli che segue il capitolo la parabola della città fantasma purna colmo di gioia pensa fra sé solo il Buddha l'onorato del mondo può conoscere desideri che costudiamo da sempre in fondo al cuore Shakyamuni poi dice di Purna e degli altri ascoltatori della voce interiormente in segreto agiscono da bodhisattua ma esteriormente appaiono ascoltatori della voce udendo Shakyamuni predicare gli ascoltatori della voce comprendono di non essere suoi discepoli sono nell'esistenza presente ma di averlo udito predicare la via del bodhisattua del sutra del loto nel lontano passato ed aver promesso tanto tempo fa di praticarla capiscono che la loro apparizione in questa vita come ascoltatori della voce è solo una questione di forma esteriore mentre in realtà solo da sempre bodhisattua che si impegnano eternamente ad adempiere il loro voto insieme al maestro quando vengono a conoscenza del legame maestro-discepolo che hanno condiviso con Shakyamuni sin dal remoto passato questi veri discepoli ascoltatori della voce si risvegliano al desiderio al voto che costudivano da sempre dentro il loro cuore e finalmente comprendono che la loro vera missione come bodhisattua è adempiere il voto di condurre tutte le persone all'illuminazione il buddismo non si concentra solo sulla grandezza di Shakyamuni ma aspira ad elevare tutte le persone allo stesso stato vitale incarnando così l'umanismo buddista Purna esprime la sua gioia riflettendo sul fatto che solo il Buddha può conoscere i desideri profondi che costudiamo nel nostro cuore Shakyamuni però conferma che coloro che lo ascoltano in realtà agiscano interiormente come se fossero dei veri bodhisattva impegnati da sempre nell'adempimento del voto cioè condurre gli altri all'illuminazione in sintesi questo passaggio del Sutra del Loto ci ricorda che il buddismo ha un cammino condiviso verso la felicità e verso l'illuminazione un impegno quindi che coinvolge tutti gli esseri viventi questo è un appello alla solidarietà e alla compassione universale che invita ciascuno di noi a prendersi cura del benessere degli altri e a lavorare insieme per il bene comune rinascendo di continuo insieme ai loro maestri pagina 37 come ho detto in precedenza Shakyamuni si impegnò in tre cicli di predicazione uno basato sulla dottrina uno basato sulle parabole e uno basato sulle relazioni Shariputra Mahoghalayana e altri a cui erano indirizzati i primi due cicli non solo avevano udito la voce del Buddha ma si erano anche risvegliati alla pratica di Bodhisattva e condiviso la voce ovvero le parole del Buddha con gli altri si può dire che tutti gli ascoltatori della voce dei tre cicli di predicazione si fossero risvegliati alla suprema verità di aver svolto la pratica di Bodhisattva adempiendo alla missione di Koso Rufu tutti insieme e con il maestro attraverso passato presente e futuro nel capitolo la parabola della città fantasma si afferma inoltre le persone che avevano udito la legge dimorarono in varie terre di Buddha rinascendo di continuo insieme ai loro maestri anche questo passo dimostra che i legami fra maestro e discepoli che abbracciano il Sutra del Lotto sono eterni e si estendono attraverso passato presente e futuro dal punto di vista del voto del Bodhisattva possiamo considerare questo brano come un'affermazione della lotta condivisa di maestro e discepolo in cui il maestro continua per sempre a guidare i discepoli verso la felicità allora questo è importante o quantomeno rincuorante il legame tra maestro e discepolo è eterno e si estende attraverso le rinascite qual è la parte importante dal punto di vista del voto del Bodhisattva questo brano ci ricorda la lotta condivisa di maestro e discepolo il maestro con la sua compassione e saggezza guida e guiderà sempre i discepoli verso l'illuminazione e la felicità in questo viaggio di rinascita in rinascita maestro e discepolo si sostengono e si sosterranno sempre a vicenda avanzando insieme sulla via del Bodhisattva fin quando sono insieme a Nichiren raggiungeranno la terra dei tesori pagina 38 la parte della raccolta degli insegnamenti orali intitolata capitolo 7 la parabola della città fantasme sette punti importanti si conclude così Nichiren e i suoi seguaci coloro che recitano Nammyo Renge Kyo tutti e ciascuno raggiungeranno insieme il luogo dove si trova il tesoro questa sola parola insieme significa che fin quando sono insieme a Nichiren raggiungeranno la terra dei tesori i Deishonin commenta così la scena del capitolo la parabola della città fantasma in cui i viaggiatori dove aver riposato e recuperato le forze nella città fantasma riprendono insieme il loro viaggio per raggiungere infine il grande obiettivo di trovare la terra del tesoro il Deishonin specifica tutti e ciascuno prima di dire insieme per sottolineare che ognuno procede insieme la frase tutti e ciascuno indica tutte le persone tutti gli esseri dei dieci mondi e dei tremila regni qui il Deishonin sta dicendo ai suoi discepoli noi ci impegneremo sempre insieme questo è il significato di insieme a Nichiren ciò significa avanzare insieme con il nostro grande voto condiviso di realizzare cose rufo il desiderio del Deishonin si tratta di avanzare insieme alla Soka Gakkai che sta rendendo cose rufo una realtà in tutto il mondo questo è anche un interessante uso di parole il Deishonin sottolinea l'importanza di avanzare insieme per realizzare cose rufo insieme cosa significa che nessuno deve essere lasciato indietro e spesso questo ce lo sentiamo dire e poi usa il termine tutti e ciascuno cioè indica tutte le persone indipendentemente dal loro stato di vita e dà anche quell'idea di unione formata dalla singolarità di tutte le persone la lotta condivisa di maestro discepolo un viaggio per un luminoso futuro pagina 39 mentre mi accingevo a compiere la mia prima visita nel Kansai dopo essere diventato terzo presidente della Soka Gakkai scrissi nel mio diario tratterò ogni singola persona in modo amichevole parlerò con ognuna di loro dialogando e chiedendo di condividere reciprocamente felicità e sofferenza per il resto della nostra vita questo sarà il mio credo avanzerò lotterò e soffrirò come inviato dei Buddha eroe senza corona e onorevole alleato delle persone comuni proseguiamo costruite un futuro luminoso continuate a incoraggiarvi e a sostenervi a vicenda in ogni situazione e avanzate verso la vittoria il maestro quindi ci ricorda che questo viaggio non sarà facile ci saranno momenti di gioia ma ci saranno anche momenti di sofferenza ma se ci uniamo e ci supportiamo a vicenda possiamo superare qualsiasi ostacolo dobbiamo essere coraggiosi e determinati e non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obiettivo comune bene anche questa volta siamo arrivati in fondo a questo studio come sempre spero ti sia piaciuto se ti è piaciuto metti un like e magari iscriviti al canale ma in questo momento soprattutto mi interessa dirti che ci interessano i tuoi commenti puoi mandarci anche un vocale lo lascio sotto in descrizione che non verrà pubblicato quindi verrà ascoltato solo da noi dacci consigli e noi ci proviamo a fare del nostro meglio e ascoltiamo i vostri consigli quindi mandate 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 grazie alla prossima volta ciao